Sì, Presidente ha parlato della necessità di rivedere il modello di regione basato principalmente sui cerchi concentrici e la necessità di rivedere quindi anche la qualità della vita, l'importanza dei servizi e della sanità. Come si coniuga tutto questo con le questioni recenti e impellenti della chiusura del punto nascita e del Tribunale? Noi troveremo il punto di equilibrio tra la grandezza dei cerchi concentrici della nostra riorganizzazione territoriale, la qualità dei servizi, la qualità della viabilità e la qualità degli spostamenti. Opereremo in tutte le direzioni sapendo che Sulmona è una città distretto che eroga una quantità di servizi ad un numero molto superiore rispetto a coloro i quali risiedono dentro le mura. La strategia delle aree interne è esattamente questa, io la difendo in Italia e in Europa perché voglio che la qualità della vita ci sia in ogni dove e non solo nei luoghi che hanno cominciato con grandi numeri appena dopo l'unità d'Italia.